in piedi, camminando o saltando perché è il modo migliore per proteggere il cuore ok, ritorniamo a legare le nostre gambe per favore perché volevo parlarvi proprio delle nostre glute, glute, glute e perché no? Quando facciamo l'elastico è proprio per quello ok, vado in la nostra slalom, cambio ok, guardami che le gambe sono prima, parallele, parallele, parallele la cosa importante è che sono larghi, ok? la musica è un po' più lenta per aiutarci proprio a concentrare sul lavoro ancora, cambio, vado, vado, vado ancora due volte, faccio, vado, 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 cambio ok, questa prossima volta rimanete con questo destra avanti e vado a stendere, il busto viene, mi giro io, non giratevi voi, non giratevi, mi giro io ok, la gamba va in diagonale, il busto leggermente in avanti l'ancora la gamba avanti, la gamba è che è ancorata la gamba avanti per aiutarvi proprio a lavorare con quello indietro taloni giù, metti la mano sotto per sentire il gluteo che fa contrazione contrazione, contrazione, ancora, fai 8, 7, 6, 4, 3, 2 e cambiamo la gamba, cambia la gamba, vado in estensione trovi il tuo setto, busto in avanti, gambo di ancora, gambe che lavora vai, vai, provi di attaccare il talone sull'ultimo piccolo pezzo, piccola contrazione e spingo, 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 ancora, ancora 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2 ancora, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 stop, ok veniamo in avanti, voglio che chiudete le punte poco a poco chiudo le punte poco a poco, i talloni usciranno dietro di me ok, e vado con i talloni spingo, 4, 3, 2 in avanti, spingo, 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 spingo apro, apro, busto in avanti facciamo piano, piano facciamo 4, dietro, 4 avanti, 4, dietro, 4 proviamo in due tempi 2, apro, 2, apro, 2 e lo sentirei proprio qua sotto il gluteo apro, apro, 2 2, apro, 2 apro, 2 apro, ancora, 8 volte 7 5 4 3 2 and 1 relax ok, occhio ragazzi veniamo giù veniamo giù perché voglio tenere l'elastico intorno alle mie gambe portandolo sopra le ginocchia ok scusatemi, voglio solo spostare il mio microfono ok, scendiamo giù i piedi rimangono insieme e l'elastico si aprirà vediamo se riuscite a vederlo meglio così ok, ci siamo ok, vai vai faccio 4, 3, 2, 1 chiudo poco apro 4 chiudo poco ma veramente minuscolo senti che va in tiro rilassi poco poco senti va in tiro rilassi poco poco facciamo 2 2 apro se puoi aggiungere l'abdome va bene se non ce la fai 2, 2 and and 2, 2 senza il salto 2, 2 and and 2 dammi singoli 8 7 6 5 4 3 2 3 8 7 6 5 4 3 2 ancora 8 7 6 5 4 3 2 relax avete sentito ok adesso mantieni sempre le gambe legate ma veniamo lateralmente su 2 potete anche stare sdraiato sul trampolino se vuoi ma puoi anche tenere la mano fuori dipende da te ok come meglio senti la spalla ok la gamba che lavoro è quella superiore non inferiore andiamo 8 7 6 5 aggiungi il bounce 3 2 in avanti 8 7 6 5 4 3 2 su 4 4 3 2 avanti 4 4 3 2 2 2 su 2 su 2 avanti 2 su 2 su 2 avanti occhio singolo su avanti 2 avanti 3 4 5 6 7 occhio 8 relax cambiamo cambiamo lato lasso sotto la musica scusate così mi sentite a meglio piano piano poco poco così almeno mi senti meglio ok cambio dell'altra parte andiamo a fare l'altro l'esterno coscia ok puoi ancorarlo così preferisco che state su andiamo e facciamo 8 7 6 5 occhio la portano avanti verso il bus verso la fronte 2 3 4 ancora 5 6 7 4 su 4 3 2 avanti 4 3 2 dammi 2 2 2 2 in avanti ancora e 2 2 avanti dammi singoli faccio su avanti 2 avanti 3 avanti 4 5 6 7 8 relax ok ragazzi adesso scendiamo giù ritorniamo l'elastico intorno alle nostre caviglie e andremo a lavorare sia l'abdome che le nostre esterne cosce glutei mi giro in questo modo così scusate le spalle ma con un pantaloncino così non mi posso girare diversamente ok e allargo 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 fai solo le gambe facciamo 8 7 6 5 4 3 2 e fai piccolo salto salto 2 3 4 5 6 7 ancora faccio 8 7 6 5 4 3 2 rimango 40 bouts 8 8 7 6 5 4 3 2 ancora ancora 8 7 6 5 4 3 2 rimango fuori 8 7 8 6 5 4 3 2 and relax bravi ragazzi abbiamo quasi finito veramente siamo in punto di arrivo però voglio finire sempre con un po' di gluteo perché intensa di si presta proprio per fare i gluteo allora veniamo in avanti sollevo le gamba destra e spinto verso alto mi aggancio con alto vedi questi piedi qua indietro la sinistra agganciato sulla struttura ma molleggio 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 sul strastuoia 2 vai continuo vai 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 ancora 8 7 6 5 4 3 2 8 8 7 6 5 4 3 2 e cambia la gamba ricordate che in questo mese c'era anche tantissime sui glutei challenge spero che l'avete fatto tutti i giorni perché con le costanze il gluteo risponde sempre ancora ancora 8 7 6 5 vai 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 ancora ancora 8 7 6 5 4 3 2 ultima 8 8 7 6 5 4 3 2 e relax uno deve dire wow che allenamento che abbiamo fatto oggi però si può mancare gli addominali diciamolo ragazzi allora passiamo indietro andiamo a fare un po' di plancia ok non c'è un orologio così andrò a naso ok perché quando sono in vacanza tolgo l'orologio volutamente per vivere per il ritmo della giornata non legato all'ansia ancora continuiamo 8 4 4 provando a tenere i nostri fianchi più fermi possibile 1, 2, cambio 1, 2, cambio 2, 1, 2 1, 2, fai un piccolo colpetto verso basso con la gamba per fare un'ultima accelerazione sulla stuoia per sentirlo più profondamente dall'obdome 1, 2, cambio 2, 2 2, 2 ancora, ancora 8, 7 6, 5 4, 3 2 1, ci ha diviziato con la sua presenza lì lì, non so se la vedete vieni amore, vieni c'è una mano qui che ti vuole popolare che lei è molto restiva perché non trovate lì, c'ha paura di essere presa, vieni amore vabbè, vengo io da te riuscite a vedere la lì lì eccola la lì lì guarda quanto è bella quanto è bella la lì lì sono la lì lì adesso avrà paura e scapperà perché dice mamma mia, mi ha baciato, che devo fare? che devo fare? che mamma mia baciato? siamo pazzi qua siamo pazzi qua ok, tutti quanti aggrappatevi con i piedi e facciamo Russian Twist abbiamo i mali tesi abbiamo quasi finito il nostro allenamento oggi che è molto completo abbiamo fatto braccia brucia grassi esterno coscia glutei addome penso che potete veramente avere la coscienza pulita oggi ma su now ricordate sempre che avete la possibilità di aggiungere più abbinali magari più tardi in giornata o prima in giornata non so a che ora state facendo questo allenamento aggiungete un fluid che fa sempre bene per le articolazioni e per l'allungamento ok si è messa in posa la mia inquadratura quanto sei bella lì lì quanto sei bella? 8 7 6 5 4 3 2 and relax eccellente ragazzi sono molto contenta del nostro allenamento oggi e voglio ricordarvi sempre che siete molto di più di quelle che pensate di essere così sognate in grande mettetevi alla prova studia ogni giorno trattatevi con magari una beauty routine o la cupping o la derma rolling o una washout o la meditazione o un diario un diario che studiamo verso noi stessi per riflettere provi a scovare la tua grandezza scovando la tua grandezza uno diventi 100% te stessa diventi sempre più in casa in tua stessa pelle perché questa poi alla fine è quella che provano tutti quanti di farci sentire inadeguati ci provano a far sentire non abbastanza non abbastanza giovani balle magri, grassi, biondi, mori ricchi, simpatici giovani, vecchi non so ci sono sempre un sacco di cose che le persone provano a convincerci che non siamo abbastanza ma io ho un corpo una vita una faccia una pelle un'età un passaporto un lavoro una cosa che è mia e non è di nessun altro nessun altro può fare gil nessun altro può fare te e per questo sto dicendo basta non è una gara fai 100% te stesso fregatene di quelle che pensano gli altri e vedrai che vivi proprio più tranquilli ti prego che Lili si sta mettendo in testa spank fantastico sono due sagomi i miei cari vi voglio bene ragazzi passate una giornata veramente spettacolare baci dalla Jill grazie a tutti